Buongiorno Melania, sono Melania ragazzi Buongiorno Melania, buongiorno Buongiorno Melania, buongiorno 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 guarda io mi ha levato solo perché ho una dignità di preferenza tua no no ragazzi guardate te la do la kill te la do te la do no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Troppo, troppo, troppo. Mamma mia, madonna, che fastidio. Ce l'avrei fatta, vi giuro. Cioè, sono sette in vita, ragazzi. Avevo 25 kill. Più la sua, 26 kill. 4, 5, 6, 7. Ma non so se l'avrei fatta. Forse se me li facevo tutti, tutti, forse sì. Peccato, dai, dai, dai. Vabbè, come prima, ragazzi, ci sta, top. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, Giuseppe, Michele, Francesca. Ma buongiorno. Non ti ero la colpa alla sveglia. Ma la vecchiaia, cazzo. Veda, Nico. Buongiorno. On fire, Giorgio. Giorgio, non Giorgio. Bella, Anthony. 25 bombe come primo game. Bella, Capri. Ci sta, ci sta. Raga, Nadia, non citta. Cioè, secondo me, stanno sempre... Io sto testando il gioco. Dato che è un gioco completamente diverso. Perché a me dovete trattare più tranquilli. Sono troppo cattive le persone. Magari sì, è un po' egocentrica. Però... Ficazze. Ho capito. Anzi, come vedete, proprio così... Se avete fatto caso, i suoi spettatori da 2000 che ne avevano ne sono 6000 ora. Però non è di conf... Secondo me è tutto hyper nei suoi confronti, ecco. Basta giocare. Prepararsi al lancio... Non ci credo, ragazzi. Giorgio, non fare così però. Dai. Giorgio. È prima mattina. Giorgio. Cosa combini? Con le 340 attelle. Uuuuuh. Grande, Giorgio. 200 Anthony. Ragazzi, avete fatto partire il party. No. Cioè, il party. Il buongiorno si vede dal party. Se qualcuno lo completa o meno. E mo' come cazzo fanno? Gabri, comunque poi ti dico com'è possibile. Cioè, nel senso che appunto... È un gioco nuovo. Lei è una Warzone player. Non ha mai giocato prima altre cose. Quindi ci sta, senza me. Capitare al punto alla rovescia. Ortenete punti per accelerare il contesto. Versaglio in capo. Abbatteteli. Qua fine, mio coattivo. Qua fine, mio coattivo. Vabbè, se non mi becco genuini... Eh? Ha pure quittato. Cioè, mi ha ucciso e ha pure quittato. Oddio. Buongiorno. Good morning, Pope. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. C'è un party, ragazzi. Un party non può non essere completato. Dai, eh. Concento se vi attesta che lo completiamo, sto party. Sono pure morta come una fagiana. Vabbè, dai. Basta. Arrivando un nemico. Attenzione in alto. Falle le kill, dicevano. Falle 35 kill. Lì, per la nostra partita è la quitta, raga. Oggi, per la nostra partita è la quitta. Oggi, per la nostra partita è la quitta. le lobby non è un pello male non è proprio male le lobby le lobby adesso ho fatto come primo game 25 kill solo che adesso proprio ora mi è portata male perché allo start ho dovuto ridicare con uno con lo scudo infatti ora la quitta se non è buona questa brava continua oddio christian ragazzi ha fatto la sub attenzione ragazzi ristarto perché è molto importante non perdere tempo all'inizio ma ciao marty buongiorno comunque sub rinnovata commentiamo grazie christian sono molto contenta grazie per che mi mette a piatto ragazzi ma voi vi volete bene o no ve lo mostro cioè anche se non adesso le faccio 33 kill però vi volete bene anche se non dovesse farle buongiorno buongiorno Michele ma tu sei pazzo buongiorno grazie sono contenta per te mattina ma vaffanculo cioè te lo devo dire in italiano proprio non mi aguanto laggo regà è arrivato un nemico attenzione in alto non provarci mai per in blanco tantissimo ragazzi qualcuno le ha prese mamma laggo minchia ci andiamo a grotta a fare le kill ecco manco mia zia ci sta zia ci sei per fightare per favore qualcuno che fighta vada no no ne vado ne vado ne vado pandemia c'è sta fuori largo largo io largo mi sta venendo di testa raga per quanto largo la Da sopra Oddi I'm going to the lodi but I don't know because Dai provati, provati, te lo giuro, guarda che fremy lag Mi serve aiuto Mi serve aiuto Fratello Conosci il fremy lag? La conosci? Mi faccio parte La chiamavano madonna che fremy laggava Il fremy lag vivente mi chiamavano Mi serve aiuto Mi serve aiuto Mi serve aiuto Mi serve aiuto Raga non potete capire quanto laggo Cioè ve lo dovrei far vedere Non si potreste mai credere Va dietro, va dietro Oh 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 Ah Oh 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 Quello che sto facendo in realtà non si fa perché adesso sto andando sotto, sto sbagliando Infatti non devo andare, non avevo visto uno Vabbè dai Speriamo la mia piano? No, non lo so Ok Putin on war zone ragazzi, proprio lui Per il loro notto più disponibile, fatti valere Arriva il gas, parco la nuova zona sicura Adesso sei negli ultimi dieci Che cosa è sempre più vicino? Che ragazzi stanno camperando tutti Attacco aereo qui Bombardamento di precisione Qui Phoenix 3, attacco in corso Bombardamento di precisione Nessun nemico colpito Ultimi cinque, forza Avviva il gas, marco la nuova zona Questa è un bot Poi che si chiudono Mi ha avviva quasi a tosso Questa è un bot 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 ragazzi ma come ha fatto a mettersi la mamma remma non ce l'ho sentita che si piastrava c'è proprio l'audio zero zero io mi chiedo voi in live l'avete sentito che si piastrava io ho proprio zero ragazzi non l'ho sentito per niente non so se voi l'avete sentito magari so io superi like arribo ho le prende a mangiag a un soldato necico Sulla bar Ci sono ragazzi Ragazzi devo fare un pezzo le drill Buongiorno Ah ma sul bar c'è un cubetto Ah e uno ce ne va Ormai il gas è troppo vicino Alla zona ovunque Per rientrare dovete sovrattivare al punto alla rovetta Ottenete punti per accelerare il fronte Versaglie il capo Abbasseteli C'è un soldato di Emilio Oh non c'è nessuna grotta Rega ma come cazzo Vabbè si si Mi avete rotto le palle 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 32 kg Sì sì grazie Ragazzi allora io vorrei dire una cosa Pragnuska grazie per la sabbia in regalo Ma io vorrei fare 33 kg Ma questo chi l'ha mandato Andrea Andrea sono già due camper Che mi mandi Che mi fanno perdere 15 minuti Perché sono con lo scudo Sono due game di fila Che perdo 7 minuti Con uno con lo scudo Andrea per favore Ho capito che vuoi andare in Messico Che tanto non mi aiutare Però così no Ho capito che vuoi andare in Messico 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 Non miabinare in Messico Ho capito che vuoi andare in Messico No, no. No, Roberto, ho sbagliato. Cosa l'ho fatta a questo? No worry, no way. It's a fantastic day. No worry. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No, fanculo. Ok, raga, devo essere un po' più veloce perché all'inizio ho perso troppo tempo per fare queste 33 kill, vedi? Staccate la corrente. Allora, Andrea, rispondi, rispondi. Sono più persone. C'è Rella che mette 6.000 stelle. Non so se Mattia ne metteva 5.000. Lui 10.000 in singolo e 20.000 in team. Grazie a tutti. 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 Ragazzi, oggi è figo di... Ma Melania ti spiego, il problema tra coppie e singolo è che il singolo che risponde in coppie faccio più team e quindi quelli non rispondono più, cioè non so se mi spiego. No way, è sempre anche lo sticker. No, è il server. Oh, amico, lo sai che serve prima a morire? Oh, che bello. Non ci credo. Ragazzi, cucciola. Un aggrotto. Non ci credo. sta arrivando un nemico arrivo arrivo che cazzo fare senza di me a presto non è scarto No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bravo Edo, grande per rientrare liberamente, assiculate i suchi per accenerare il conto all'arretto, fate spiazzare le due dei versanti, un nemico in carezzo nell'area! c'è un soldato nemico! c'è un soldato nemico attivo! 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 Sfruttalo bene. 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 Non lo faremo, non lo faremo, non lo faremo. Esistete fino allo scadere del timer per rientrare liberamente. Accumulate punti per accelerare il punto all'arretto. La priorità è uccidere tutti i nemici. All'attacco! Arrivare all'avvento! Attenzione in alto! Ricognizione in arrivo! Uabi, in favolo! Uabi, in amico, attivo! Dove sono io? Non c'è nessuno. Autonomia, uabi, esaurita, rientra la laca. Puoi fare le 33 kill, grazie. Uabi, in amico, attivo! Sta arrivando l'avvento! Attenzione in alto! Attenzione in alto! Uabi, in amico, attivo! Uabi, in amico, attivo! Arrivare all'avvento! Torna in azione! Uabi, in amico, attivo! Uabi, in amico, attivo! Tutto a posto! Tutto a posto! C'è un soldato nemico. 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 Tu che fai? Io non so che dire Che fare Vado a fare la plin plin Let's go Alla prossima Allunatevi finché potete Tra poco entrerete in campo Ragazzi adesso In modalità Proprio Tryharding Col cappuccio Così Ah non lo posso mettere il cappuccio perché Non sento le passi Francesco si lecchia Attenzione Noemi Ma quanto sei dolce Che mi hai fatto pure la condivisione Ragazzi allora Siamo io Il monitor E i nemici Grazie Marco Sei gentilissimo per le 50 Buongiorno Marco Siamo in modalità proprio Com'è Ragazzi è pronta È pronta È pronta Ragazzi mille commenti Mille stelle Dai Scherzo scherzo Devo meritarmele Devo fare le kill Sto type è fortissimo Ragazzi C'è nessuno C'è nessuno Ma come è qui è C'è un soldato nemico Oh vabbè Slattico Sto pagando Noi ho la felta Pensavo che potremmo fare a freddo Invece Non è ancora finita Non è ancora finita Non è ancora finita Non è ancora iniziata C'è un soldato nemico Non è ancora finita Non è ancora finita Non è ancora finita no raga le stelle grazie grazie raga grazie marco grazie grazie in arrivo c'è una nuova zona sicura abbiamo visto affari con il denaro fermateci nemico in arrivo nell'area bombardamento di precisione nemico bombardamento di precisione nemico non ci credo noemi grazie guccioli grazie guccioli grazie guccioli grazie guccioli grazie guccioli Passi in movimento. Un inimico di D'Auto. Soprame. Grazie per l'attacco aereo Grazie per l'attacco in corso Grazie per l'attacco aereo Grazie per l'attacco Grazie per l'attacco aereo Grazie per l'attacco aereo Amico in arrivo nell'area Grazie per l'attacco aereo Grazie per l'attacco aereo Grazie Grazie per l'attacco aereo 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 Grazie a tutti. 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 Mamma mia, mamma mia. Vai a pescare. Vai tu a pescare, non io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 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 Niente con angolo all'azione, ragazzi... Qua sei in arrivo, c'è una nuova zona sicura. In posto morire, ci siamo distrappati con il senaro, fermatevi. In posto morire, ci siamo distrappati con il senaro. In posto morire, ci siamo distrappati con il senaro. In posto morire, ci siamo distrappati con il senaro. In posto morire, ci siamo stampati con il senaro, fermatevi. Sì, è arrivato un belino. 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 No way! And one way! One shot. Sì, è arrivato un belino. Sì. Sì, è arrivato un belino. Sì, è arrivato un belino. Sì, è arrivato un belino. Sì, è arrivato. Sì, è arrivato un belino. 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 no no vieni qua nonno un attimo un attimo robbie un attimo andiamo qua su guarda oh uno sopravvisore no tre 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 fatto erano tre kill cazzo ragazzi una cucina comunque mi sento di farla qua la sua l'angelo giuro in cartetta sono ancora lì a rob vedi ho perso questa cosa mi facevo se tre kill vado all'oddia è apprendibile avuta anche cazzamone arriva a quale qua nico ce n'è una me lo faccio oh si si ah dai è vero mi hanno fatto da fuori da io gente all'ordi nico si si ho visto attenzione in alto perché gente l'ha detto stava aspettando prima roba eccolo fatto andiamo avanti nico facciamo l'abbiamo facciamo andiamo in c'è nessuno nessuno di niente manco ha uno zombie qua c'è non so cosa vedi magari potrebbe essere la zona più calda diventa proprio è finito è finito ma da sotto lo stanno a lanciare capito sono due due è morto uno 3 ora c'era una granata qua e la lanciavi guardalo 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 sta movendo occupamenti bombardamento di precisione non è una cosa questa è in nuova zona Guarda Perché non ho armi Non ho armi L'ultima Un colpo Uno di vita Non avevo più muni Se mi venivi Cazzo Aiutavi Figa Che figa Mannaggia Mannaggia Andrea Corri Corri Andrea Anzi No raga Facciamo così Mi stoppo Mangio mezz'ora E giochiamo insieme Ancora Ok Intanto Vogliamo stare Sul discord A parlare Mentre mangio La compagnia Mentre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Dove? Dove? Guarda! 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 Credibile! Guarda! 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 Vedo un movimento! Sopra di noi, Nico! Sopra di noi! Sopra di noi! Sopra di noi! Guarda! Guarda! corresponding Gas in arrivo. c'è una nuova zona sicura! Non ci credo, non ci credo! wow ti odio proprio un odio proprio scherzo ragazzi allora io vado a mangiare mi riposo tipo una ventina al minuto e fra mezz'ora ci vediamo in live quindi alle 10 al 1 a meno 10 ok va bene mi ricarico un po e rigiochiamo un bacione ragazzi ma grazie per la mattinata 25 minuti ma che c'è un latice ascoltiamo bene 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 per chi vuole venire sul discord a fare due chiacchiere in questa mezz'ora per chi non ha il link ragazzi lo trovate su instagram il link 3 nella biografia descrizione ciao amico ciao fate buon pranzo ragazzi c'è qui vedo il link non credo che ci sia infatti va bene guys un bacione i cherish the moment rescue rescue i need you rescue i need you rescue i need you ciao 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 ciao